Nella mitologia induista la terra poggiava sul dorso di quattro elefanti che poggiavano su una tartaruga che poggiava su un serpente. Su cosa poggiasse il serpente? Non c'è dato di saperlo. E oggi? Se le immagini del passato, frutto della fantasia delle antiche popolazioni, ci sembrano affascinanti, beh, anche la creatività della natura non è da meno, anzi. Oggi sappiamo di vivere su un pianeta che è legato alla sua stella da una forza, la forza di gravità, e che il Sole, a sua volta, ruota intorno a un gigantesco buco nero insieme ad altri miliardi di stelle per creare la nostra galassia che è solo una delle numerosissime galassie che compongono il nostro universo. Che cosa ci sia oltre il nostro universo non è dato di saperlo esattamente come il serpente. Questa riflessione, però, oltre che ricordarci che c'è ancora molto, moltissimo da scoprire, che siamo solo agli inizi e che il futuro ci riserverà scoperte meravigliose, ci permette due considerazioni fondamentali. La prima è che se è vero, come abbiamo detto, che gli scienziati, per alimentare la propria immaginazione e creatività, per sviluppare una responsabilità adatta alla gestione della conoscenza che producono, devono studiare anche altre discipline, come la letteratura, l'arte, la storia, la filosofia, è vero anche il contrario. Cioè è vero che tutte le altre discipline devono sempre guardare alla scienza come a un pozzo pieno di tesori che può alimentare la nostra immaginazione. Perché la fantasia e la creatività della natura sono molto superiori a quelle dell'essere umano. Non saremmo mai riusciti a immaginare quello che abbiamo scoperto e che continuiamo a scoprire grazie al sapere scientifico. La seconda considerazione, non meno importante, è che alla base della conoscenza scientifica c'è sempre la meraviglia della scoperta. Chi fa scienza lo fa perché scoprire qualcosa è stupendo. È una sensazione talmente bella che è difficile da descrivere a chi non l'ha mai fatto. E questo però è un aspetto fondamentale che dobbiamo spiegare alle nuove generazioni quando parliamo di scienza. Dobbiamo spiegarlo in un mondo in cui invece paradossalmente si insiste molto sull'applicazione tecnologica e troppo poco sul valore della scoperta in sé. Ci avete fatto caso che quando si parla di una nuova scoperta su un giornale, su una rivista, si fa riferimento subito all'applicazione tecnologica che ne deriva, al fatto che ci permetterà di ottenere qualcosa che non avevamo. La tecnologia è fondamentale, certo, ma non è l'unico aspetto del sapere scientifico. Anzi, se riduciamo la scienza a produzione di applicazioni tecnologiche, soffocheremo il fascino, l'eleganza e il senso più profondo di questa forma di conoscenza. John Herschel, che è stato un grande matematico, fisico, geologo, astronomo, pioniere della fotografia, inventore di telescopi, scriveva nelle sue opere che la contemplazione della verità genera essa stessa la più pura delle felicità e di conseguenza l'esercizio della più elevata benevolenza e moralità. In queste poche parole, Herschel ci ricorda da un lato come non sia possibile ridurre la scienza a uno strumento freddo, razionale, per produrre tecnologia. La scienza è fatta di creatività, immaginazione, bellezza, passione, esattamente come tutte le altre forme di arte o di conoscenza che l'essere umano ha creato fino ad ora. Ma Herschel sottolinea anche un altro aspetto importante e cioè che bellezza e felicità non sono solo questioni personali o estetiche ma generano rettitudine, fanno diventare persone migliori. Coloro che hanno l'opportunità di raggiungere la felicità e la bellezza attraverso la conoscenza diventano persone migliori. La meraviglia produce passione che a sua volta genera dedizione e impegno. Raccontiamo la meraviglia della scoperta alle nuove generazioni e ci assicureremo un futuro decisamente migliore. Grazie a tutti.